Nereto si pone in un'ottica di rilancio del panorama turistico territoriale e lo fa anche al tempo del Covid. Un calendario davvero unico, otto date ma di grande spessore e qualità che proiettano la piccola cittadina vibratiana in un panorama davvero unico, non solo sul piano provinciale ma addirittura regionale. Tanti big, tanti nomi per una eterogenità di un calendario davvero di spessore. Assessore, come nasce questa iniziativa? Ci siamo riproposti nonostante le difficoltà Covid, quindi eravamo un po' incerti sul voler stilare un nuovo calendario quest'anno però l'abbiamo fatto ridotto con un alto spessore culturale, lo facciamo con otto eventi di fine settimana a partire dal 18 e li abbiamo concentrati tutti su un'unica piazza, piazza Gavour con posti a sedere limitati e raccomandiamo l'uso della mascherina e il distanziamento sociale, questo è quello che chiediamo a tutti voi per evitare problemi sanitari. Partiamo con un calendario, con un grande personaggio, lo facciamo con un personaggio del canto lirico, una donna che ha dato grandi soddisfazioni all'Italia, proponendosi all'estero per diversi anni. avremo appunto la presenza di Katia Ricciarelli affiancata da Francesco Zincariello. Ci saranno tre serate di cabaret per dare un proseguimento allo scorso anno per il primo festival che facciamo appunto del cabaret con i nomi di Cacioppo, di Giobbe Covatta, di Mattioli e di Marto Fello. Un evento più importante ce l'avremo poi di alta cultura veramente, un primo festival della filosofia, l'abbiamo intitolato così, dove avremo la presenza di grandi nomi, di grandi nomi italiani, dove si parlerà di identità, quindi l'identità intesa sotto diverse sfaccettature, la personalità di ognuno di noi, l'influenza religiosa, l'influenza dell'ambiente in cui abitiamo, del contatto umano che abbiamo con gli altri. Questo ci verrà rappresentato dalla presenza del professor Vittorio Sgarbi, dalla presenza del professor Polia, la presenza del professor Fusaro e del dottor Recchioni. Poi abbiamo avuto la possibilità, e lo ringraziamo, la presenza del presidente dei parchi d'Abruzzo e Monti della Laga, e il presidente Corecom, che si occupa di comunicazioni. Questo è l'evento che veramente lancerà, sicuramente, Nereto, come un habitat che ospiterà veramente tanta gente, perché è un evento di cultura elevata, dove lascerà un segno, secondo me, intangibile.